Ciao ragazzi sono tornato con un nuovo video e ad essere tornata purtroppo è anche la zona rossa quindi dobbiamo stare a casa ancora non si sa per quanto tempo comunque ricreiamo di nuovo l'ambiente universitario o bibliotecario come preferite qui su youtube io ho sotto i ferri Frust e A tua insaputa un libro sull'inconscio scritto da John Varg, un libro bellissimo ve ne parlerò poi qua su youtube allora io oggi conto di fare un'ora un'ora con al centro una pausa all'incirca di 10 minuti vi lascerò il timer non metterò nessuna pubblicità su questo video così non sarete disturbati mi raccomando io ho le olive mie, l'acqua, gli strumenti necessari, il leggio farò non so se mezz'ora e mezz'ora insomma adesso vedrò ma non è importante la cosa fondamentale è non farsi distrarre mi raccomando partiamo adesso io ho davanti l'orologio sono le 5 e 35 esattamente alle 18 e 5 faremo la prima pausa poi dalle 18 e 5 alle più o meno 18 e 20 e 25 riprenderemo per poi fare un'altra mezz'ora insieme quindi io sposto il microfono mi tuffo su tutto il lavoro che mi aspetta vi auguro un buono studio o una buona lettura quindi io ho avuto un'altra mezz'ora insieme 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti